Il segretario leghista non dà il via libera al candidato. Il malumore di Forza Italia, anche Meloni si spazientisce. Bologna, niente da fare per il centrodestra. Matteo Salvini rinvia ancora la scelta del candidato sindaco. Addirittura al 19 luglio, stavolta. Tra più di dieci giorni. Per allora, giuro al leader della Lega, sarò a Bologna per raccogliere le firme per il referendum sulla giustizia insieme al candidato a Bologna. Niente da fare quindi per Giorgia Meloni che sarà invece ai Giardini Margherita già lunedì 12 per presentare il suo libro e che sperava di arrivarci con un nome già certo per Palazzo d'Accursio. Grazie a tutti.